L'urgenza di riqualificare il patrimonio edilizio e la necessità di armonizzare sempre più i temi del trasporto pubblico con la vita scolastica e più in generale la richiesta di trasformare finalmente la scuola nella priorità delle azioni pubbliche per una ripartenza solida e all'insegna della coesione. Sono istanze nette su temi difficili ma che pure riguardano la quotidianità degli studenti quelle emerse dalla prima tappa del tour di Siete Presente promosso dalla presidenza della regione toscana i giovani sì. È la nuova fase della stagione di partecipazione e coinvolgimento delle giovani generazioni toscane lanciata nell'ottobre scorso alla Villa del Gombo di San Rossore alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quel percorso avviato in autunno con l'idea di scrivere assieme ai ragazzi e alle ragazze il futuro delle politiche della regione che prosegue adesso attraverso un viaggio a tappe che toccherà fino al prossimo maggio tutte le province toscane. L'obiettivo dell'incontro di stamani è l'edilizia scolastica, il mondo dei trasporti e infatti io sono per dare delle risposte, già l'abbiamo fatto con il fondo di coesione e sviluppo, quando più del 50% delle risorse che si è trovata alla Toscana si sono concentrate per 33 interventi di manutenzione e di sostanziale ristrutturazione di edifici scolastici in Toscana ma ancora di più lo sono con i fondi che arrivano dal PNNR e con i fondi che arriveranno con i fondi strutturali. Metterli in condizione di lavorare e operare in scuole dotate di laboratori, dotate di quelle condizioni di sismica efficienza energetica che li possano far lavorare bene e dall'altro per andare a scuola dei trasporti efficienti, la regione su questo è impegnata. Giovani si ha dato la possibilità agli studenti della Toscana a partire da oggi di parlare, di farsi ascoltare, di proporre, di trasformare la protesta in proposta. Vogliamo dare l'immagine ai genitori, alle famiglie che la regione toscana considera i propri studenti già presenti, non solo futuro della Toscana e crediamo che già oggi meritino di stare al tavolo con le istituzioni, con i tecnici per avere chiarimenti, per fare proposte e per cercare di affrontare due problemi concreti come l'edilizia scolastica e il trasporto. Abbiamo volutamente scelto due temi difficili perché non volevamo fare una passerella ma volevamo dare la possibilità concreta agli studenti toscani di comprendere quali soluzioni possiamo mettere in campo.